Per me l'Unione Europea rappresentava un grande sogno, quello di unire le forze di paesi che si erano fatti la guerra fino a poco prima. Ma non sempre questo sogno si è avverato, anzi forse non si è avverato, perché purtroppo l'Unione Europea ha scelto di lasciare indietro ancora alcuni paesi. E mi auguro che in futuro questo non accadrà più, alcuni paesi fra i quali l'Italia. Mi auguro che in questi cinque anni la mia attività possa servire a far funzionare meglio l'Europa, perché l'Europa esiste. Abbatterla con un colpo di mazza non ha senso. Farla funzionare bene, soprattutto nei confronti di quei paesi che sono stati penalizzati dall'Europa, è uno dei miei compiti. In particolare aiutare l'Italia, il Meridione, la Sicilia e la Sardegna, perché abbiamo un potenziale enorme e con l'aiuto dell'Europa questo potenziale si può sviluppare.